L'iniziativa per alimenti equi chiede che in Svizzera siano offerte più derrate alimentari prodotte in modo sostenibile ed equo. Il Consiglio federale e il Parlamento condividono in linea di massima la richiesta dell'iniziativa. Essi però la respingono, poiché considerano sufficienti le attuali disposizioni in materia di derrate alimentari sicure e sostenibili. Di che cosa si tratta? In Svizzera la produzione di alimenti deve adempiere requisiti elevati, ad esempio per quanto concerne la sicurezza, la qualità e la sostenibilità. Anche l'importazione di derrate alimentari è severamente disciplinata. L'iniziativa per alimenti equi vuole però andare oltre. Chiede alla Confederazione misure per rafforzare l'offerta di derrate alimentari prodotte in modo sostenibile ed equo in Svizzera e all'estero. I promotori vogliono che vi siano più alimenti prodotti in modo rispettoso dell'ambiente e delle risorse. I prodotti provenienti da allevamenti intensivi non potrebbero più essere importati. La produzione avverrebbe quindi nel rispetto degli animali e il settore agroalimentare dovrebbe garantire condizioni di lavoro eque ai propri impiegati. Al riguardo, l'iniziativa propone le seguenti misure. Il settore alimentare dovrebbe ad esempio dichiarare in modo più esatto i propri prodotti. La Confederazione potrebbe obbligare il settore a perseguire obiettivi ecologici e sociali e a lottare contro lo spreco alimentare e promuovere prodotti regionali di stagione. Se l'iniziativa viene accettata, la Confederazione dovrebbe garantire che i prodotti agricoli importati corrispondano di massima agli standard svizzeri, ad esempio mediante controlli nei paesi di provenienza. I promotori sostengono che grazie all'iniziativa gli alimenti sarebbero prodotti in conformità con il benessere animale e l'ambiente e a condizioni di lavoro eque. Tutti ne approfitterebbero, animali, ambiente, clima, consumatori e contadini. C'è bisogno di una strategia in materia di qualità per le importazioni. Il commercio di derrate alimentari non dovrebbe avvenire a scapito dell'ambiente e, attualmente circa un terzo degli alimenti viene gettato, ad esempio a causa delle date di scadenza troppo brevi o perché spesso i prodotti ortofrutticoli, troppo piccoli o non conformi, vengono scartati. Chi evita lo spreco alimentare risparmia al posto giusto. Consiglio federale e Parlamento sostengono che già attualmente la Costituzione e le leggi esigono un'agricoltura socialmente sostenibile ed ecologica. Le disposizioni in vigore obbligano la Confederazione a considerare la sostenibilità in ambito di relazioni commerciali internazionali. Anche il Consiglio federale intende promuovere alimenti prodotti in modo sostenibile ed equo. A tal fine non c'è bisogno di un nuovo articolo costituzionale, pertanto l'iniziativa non è necessaria. Inoltre sarebbe difficile applicare gli standard svizzeri all'estero. Le prescrizioni potrebbero entrare in contrasto con accordi commerciali conclusi dalla Svizzera. Infine, l'iniziativa rincarerebbe gli alimenti e ne limiterebbe la scelta. Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.